A Fiumicino sono pesantissimi i danni causati alle produzioni agricole da cinghiali, daigni e lupi. La situazione è ormai diventata insostenibile per gli agricoltori del territorio che si sono visti dimezzare le produzioni e denunciano il lassismo di tutte le istituzioni. Da oltre dieci anni che è sorto il problema della presenza dei cinghiali sul territorio, si sono fatte un sacco di parole, un sacco di interventi, ma praticamente il problema non è stato minimamente affrontato. Ormai i cinghiali sono già da parecchio tempo totalmente fuori controllo, hanno assunto delle dimensioni numeriche ormai per cui è ingestibile, diventate estremamente difficili gestirle. Già se ci uscissero ad affrontare il problema, non a parlarne solamente, perché molti pensano che se ne parliamo, fanno il convegno, fanno l'incontro, però poi i cinghiali non è che stanno aspettando, se limitano nella loro proliferare, perché è stato fatto il convegno, è stato fatto l'incontro, abbiamo parlato, dobbiamo fare, non è stato fatto nessun atto, diciamo, esecutivo. Di azioni concrete parla anche la consigliera regionale del PD, Michela Califano, che ha depositato una mozione in Regione. Io chiedo al Presidente Rocca di istituire un tavolo permanente che si faccia carico di questa problematica. Bisogna innanzitutto, secondo me, mettere più risorse per dare la possibilità degli indennizi intanto agli agricoltori. Il problema è importante. Ora c'è un tavolo presso il Comune di Fiumicino, ma sappiamo che questi tavoli non hanno una forza politica per poter decidere e stanziare delle risorse ulteriori. Quindi io credo che sia necessario che la Regione Lazio si faccia carico di questo problema e istituisca un tavolo permanente. Dello stesso avviso anche i consiglieri di opposizione della Comune di Fiumicino. Insieme alla collega Erika Antonelli e ai colleghi del PD abbiamo presentato una mozione che sarà discussa nel Consiglio Comunale di Fiumicino perché noi vogliamo che al più presto sia riattivato il monitoraggio e il censimento per sapere quanti animali può ospitare la riserva del litorale romano e sapere poi, precisamente, quali azioni potremo intraprendere per contenere questo problema. Ma questo è il dato principale. L'amministrazione deve riattivare al più presto uno studio di monitoraggio e censimento.